Sostituisco Miriam Filetti Mazza, è impossibilitata purtroppo ad essere presente, porgo anche i suoi saluti e mi limito a fare da lettrice dell'intervento che le aveva già preparato. Comunque parlo anche con un minimo di cognizione di causa perché partecipo al progetto ormai da molto tempo. Dunque, dopo molti anni di sperimentazioni e applicazioni nell'ambito dell'informatica per i beni culturali, settore disciplinare che ha praticamente contraddistinto gran parte dei miei studi, ed essendo stata per evidenti motivi anagrafici tra i pionieri che tra gli anni 70 e 80 tentarono queste metodologie, mi fa particolarmente piacere partecipare ad un convegno dal sapore antico, ma invece così nuovo e concreto, e di cui si sentiva la necessità. Sono lieta di portare testimonianza di un progetto che ha segnato una delle prime linee guida del laboratorio di arti visive, oggi anch'esso inglobato nel grande nuovo laboratorio di documentazione storico-artistica della scuola, cercando di dimostrare ancora una volta, ce n'è sempre bisogno, che i tempi in cui la nostra disciplina si doveva adeguare alle tecnologie sono finiti. La sfida più importante nel lungo percorso di definizione dei rapporti tra storia dell'arte e informatica è stata la scelta di un metodo capace di rafforzare le istanze di lavoro di entrambe le discipline. Forti di questo percorso di analisi, oggi siamo serviti dall'informatica nell'ultimo decennio da un'informatica sempre più personalizzata e rispettosa delle peculiarità di ogni singola ricerca. Nel momento in cui è nata l'idea di un progetto dedicato alla stampa di traduzione, ci rendemmo conto immediatamente che era una materia prima così ampia di connotazione avrebbe sicuramente potuto aprire moltissime strade, non tanto da un punto di vista metodologico, come vedremo la morfologia della scheda adottata unifica in un unico livello sia le informazioni dell'opera sorgente, che ha evocato il modello figurativo, che quelle dell'incisione, quanto piuttosto per la scelta dei materiali, che a partire dall'inizio del XVIII secolo si posero in continua crescita agli occhi di amatori e studiosi. Per la realizzazione del nostro archivio digitale sono state scelte le stampe in volume, storica etichetta che fin dal Seicento contraddistinza i materiali organizzati in album e repertori, spesso arricchiti anche da testi di accompagnamento e che insieme ai fogli sciolti affollavano le collezioni, come quella nascente del Cardinal Leopoldo De Medici e del generale ordinatore Baldinucci, tanto per rimanere in ambito fiorentino. Abbiamo individuato alcune tra le raccolte di stampe di traduzione più significative, preferendo prodotti legati sia per la cifra editoriale che per i contenuti alla realtà collezionistica e museografica della Galleria degli Uffizi e della collezione Palatina, per soddisfare un'indagine sulla fortuna visiva delle opere del patrimonio artistico medicio-lorenese, integrati, come vedremo, da altre tipologie di repertori, che ad oggi, su una piattaforma di circa 5.000 schede, garantiscono una base significativa dalla quale continuare con precisi approfondimenti. Un criterio generale che ha cercato di governare l'intero percorso è stato quello di offrire un tipo di strumento visivo sul quale studiare il prodotto incisorio, quindi una buona definizione delle immagini, con la possibilità di ingrandimenti in grado di visualizzare segni, morsure, ripensamenti, tecniche, marche, soprattutto di dascalie, permettendone un'attenta analisi anche senza essere in presenza degli originali. Dietro alla realizzazione di alcuni di questi grandi repertori scelti, esiste una storia di circostanze di rapporti tra artista, committente, editore, che unirono diplomazia politica, desiderio di autocelebrazione e ostentazione della magnificenza dei propri patrimoni artistici, gusto estetico, recupero dell'antico. Come vedremo, le diverse regie di montaggio della pagina illustrata segnano generi ben definibili ed è stata proprio l'analisi di differenti contenitori, in cui sono presenti le riproduzioni di stessi modelli iconografici a fornire quelle semplificazioni che servivano a far parlare il nostro database. Capire le frequenze di riproduzione di certe opere, osservare le diverse tecniche di traduzione, ricostruire virtualmente officine nelle quali disegnatori, incisori e stampatori spesso intresciavano le proprie capacità, lavorando insieme anche su stesse matrici. Ed ancora, giungere al recupero della fortuna visiva di un modello, di un genere iconografico, studiare un autore, la sua produzione, la sensibilità del processo riproduttivo, mezzo straordinario per offrire al pubblico e perpetuare la memoria visiva dei capolavori che, grazie alla stampa di traduzione, irruppero nelle collezioni pubbliche e private più importanti del XVIII e XIX secolo. Tutte queste erano le nostre aspettative. Ma ora osserviamo l'elenco, che qui vedete, delle suite che compongono il progetto. Di piena cultura settecentesca è la raccolta dei quadri posseduti da Pietro Leopoldo, uscita a Firenze nel 1778, complessa la vicenda di questo album, per la quale rimanda ad una precisa bibliografia. Preme però ricordare che il direttore della galleria di allora, Giuseppe Belli Vengivenni, scelse proprio questa raccolta di integrazione del suo monumentale catalogo delle pitture della galleria, manoscritto che solo nel 2004 è stato pubblicato, per avvalorare anche con riferimenti figurativi la celebrazione della collezione degli Uffizi. Era citata come quadridia del Gran Duca ed il preciso progetto di far copiare e di incidere i quadri più importanti della collezione risaliva al volere del Gran Principe Ferdinando, suggerito molto probabilmente dal raffinato Teatrum Pettorum, che pubblicato ad Anversa nel 1658 raccoglieva le incisioni di 244 dipinti italiani della quadreria dell'Arciduca Leopoldo Guglielmo. L'officina per la raccolta fu dunque lunga e l'interesse di Pietro Leopoldo alla sua pubblicazione dava chiara conferma di come il desiderio di celebrare il patrimonio artistico coincidesse con il rilancio della stessa politica culturale del Gran Ducato, che nella diffusione e circolarità delle immagini dei propri tesori ne sanciva autorevolezza e fama presso le altre corti europee o negli ambienti accademici dell'erudizione, e dove comunque, nel superamento di una regale stanzialità dei capolavori originali, ammirarne la fedele riproduzione veniva a creare un'apertura virtuale del Museo di Stato. Nella complessa vicenda che dall'ultimo ventennio del Seicento condusse quindi il repertorio fino al 1778, è possibile evidenziare il gruppo che maggiormente ne caratterizzò lo stile. Era composto da Lorenzini, Petrucci, Mogalli, Vercruis e più tardi da Giovanni Domenico Picchianti, ai quali si aggiunse, per la cura dei disegni preparatori e alla revisione delle matrici e anche il Gabbiani. Questi artisti, soprattutto in Toscana, segnarono un modello, una scuola dell'incisione per la traduzione in pittura. Utilizzerò questa raccolta, che rappresenta uno dei prototipi più diffusi di Suite 700esca, per illustrare brevemente la struttura del nostro archivio digitale che accoglie tutti i materiali. Intanto, una prima annotazione che governa l'intera navigazione. Sulla parte sinistra si trovano i motori di ricerca, cioè le sezioni di ricerca, che accede ad una maschera che dopo vedremo, e gli indici, che consentono invece di approdare a informazioni già organizzate. L'elenco delle raccolte da cui parte la mia dimostrazione, che è quello visualizzato, utilizza la sezione dei menu degli indici raccolta. La restituzione dei risultati sarà sempre ordinabile, cliccando nella parte in alto a destra, sia per autore che per soggetto, in base alle esigenze di chi fa la ricerca. Tornando dunque al nostro caso, si ha una prima restituzione sintetica che propone la visualizzazione del titolo, la tipologia dell'opera riprodotta, quindi se si tratta di una pittura, di una scultura o quant'altro. L'autore dell'originale è un richiamo alla raccolta, il richiamo alla raccolta e il tipo di incisione che abbiamo davanti. Il successivo passaggio si entra nella scheda desiderata, cliccando sull'immagine. Scelgo come esempio una delle preziosità di questo volume, le incisioni che hanno utilizzato più lastre, raggiungendo un'elaborazione calcografica di grande qualità. Le stampe doppie o triple, incise dai ricordati Lorenzini, Mogaglio, Vercruise su disegni di Petrucci. Queste, ad esempio, sono tre lastre che illustrano, riproducono l'opera del Veronese con l'accoppiata Lorenzini-Petrucci. Sono gli unici casi in tutto il database, come vedremo, in cui compaiono due immagini, perché, considerata la particolarità del prodotto, abbiamo deciso di visualizzare l'immagine così come si trova nella raccolta, quindi con le tre matrici divise, e poi abbiamo provato a fare una ricostruzione, ricomponendo l'immagine intera. Come si vede, la scheda è divisa in due parti. Nella sezione superiore i dati sono riferiti all'opera riprodotta, e nella parte inferiore, invece, ci sono i dati riferiti all'incisione. Al centro, l'immagine della stampa, corredata dalle sue iscrizioni, fa da trade union, sottolineando quindi il legame che si mantiene sempre fra le due aree. Infatti, come si può osservare, le informazioni dedicate all'opera conservano sempre i dati espressi nelle raccolte, quindi autore e ubicazione dichiarati. Le voci che si vedono in viola sono link alle schede. Si aprono le schede relative sia ai personaggi che ai repertori. Come si vede, il volume è composto da 148 incisioni all'acqua forte, monocrome, proceduto da un frontespizio decorativo. È indicata anche, nell'annotazione finale, l'esemplare che è stato riprodotto nel nostro database. Aprendo invece le icone al centro, dove sono le immagini, è possibile visualizzare la stampa e gestirla a seconda dell'utilità. L'alta risoluzione, come si è detto, permette di recuperare i dati, analizzando i dettagli grafici e tecnici e recuperando le iscrizioni. Tornando alla carrellata dei repertori, si passa al Vicar. Un'altra raccolta che celebra la collezione degli Uffizi è la Pinacoteca Granducale di Pitti. Uscita a Parigi nel 1819, che arrivava circa 40 anni più tardi rispetto alla quadreria del Granduca, offrendo una struttura originale estremamente interessante. Dedicata dalla comba Pietro Leopoldo, si distingueva per l'abbinamento puntuale che ogni opera pittorica celebrata con la stampa di traduzione aveva con l'incisione delle più importanti e pregiate geme della Dattiloteca Medicio-Rorenese. Sappiamo che erano stati usati disegnatori e incisori specifici per le tavole delle pitture, generalmente diversi da quelli impiegati per la traduzione dei dipinti, affinché potessero essere rese meglio le preziose peculiarità degli intagli. Anche l'impaginato dei volumi non seguiva preferenze tra le due categorie di opere, mostrando un elegante equilibrio tra incisione posta alla metà superiore del foglio relativa ai dipinti e quella della metà inferiore che illustrava le gemme. Solo una decina di tavole uscivano da questo schema, adottando una pagina che, tornando alla tradizione, traduceva un pezzo unico. Vicar, che aveva in prima persona realizzato quasi nella totalità anche i disegni preparatori che sarebbero serviti anche per la rappresentazione delle gemme, scelse per esemplificare la grande opera pittorica delle collezioni fiorentine. Nel caso di questa raccolta siamo praticamente a metà perché per ora sono state schedate solo la parte superiore, vale a dire solo le opere pittoriche, manca la schedatura di tutta la parte inferiore. Con i principali quadri della Galleria di Dresda, invece, abbiamo una nuova celebrazione ufficiale della quadreria di Stato, composta da 190 tavole litografiche. Alcune di esse presentano un montaggio doppio o triplo del modulo base e la raccolta è impreziosita grazie ad esemplari di grande effetto riproduttivo che, come nei casi in cui, l'opera viene tradotta, il caso di questa scheda, con l'intera cornice. Fu acquistata a fascicoli dagli uffizi. In un documento del 1851, infatti, si legge, cito, la Real Galleria si trova associata con approvazione del governo fino dal 1831 a quest'opera interessantissima, sì per la celebrità della Sassone Pinacoteca e sì per la squisitezza dell'edizione corredata dalle più belle stampe che abbia prodotto la moderna invenzione della litografia. Gli sconvolgimenti politici che in questi ultimi anni hanno travagliato pressoché tutte le contrade d'Europa ed impedito la libera circolazione del commercio furono in causa che dal 1846 fino ad oggi rimanesse arrestato il regolare invio dei fascicoli di detta edizione, la quale si trova ormai avanzata, a segno che non mancano se non otto ulteriori dispense a darle compimento. Continuando nella breve sequenza dei nostri materiali, ecco un'altra tipologia con la raccolta di 80 stampe rappresentanti i quadri dei più scelti dei signori Marchesi Gerini, edita a Firenze nel 1786 per i tipi di bardi e pagni. Qui la stampa di traduzione è un chiaro simbolo di affermazione di una grande collezione privata dove prevalevano i gabbiani dai disegni dello Zocchi e incisi da Bartolozzi, i rosa dai disegni di Santi Pacini e tradotti in bulino dai massimi artefici del momento. L'album contribuisce a testimoniare il vivace mercato della stampa di traduzione in questo scorcio di Settecento, distante dal circuito dalle gallerie, che usa artisti diversi e legati al commercio contemporaneo. Ancora mantiene la tecnica dell'imitazione fedele e osserviamo come la resa incisoria sia fortemente ancorata anche all'effetto riproduttivo. Con le turure apittrice, pubblicate a Firenze tra il 1791 e il 1794 ad opera di Marco Lastri, si amplifica invece il discorso sulle collezioni private, perché questo celeberimo repertorio riservò una particolare attenzione ai gabinetti nei quali si conservavano i prototici pittorici, offrendo un'ampia nomenclatura, spesso arricchita anche dai passaggi di proprietà, come si può vedere in questa scheda, che comunque connotavano il livello del collezionismo e del mecenatismo contemporaneo, come nel caso che qui vedete, in cui si registra il passaggio dell'opera dalla collezione di Ferdinando De Medici a quella degli Strozi, passando per la raccolta a Ridolfi. La modalità più evidente del montaggio di questa raccolta è la strutturazione cronologica, che lo rende un atlante visivo della storia figurativa. Partendo con le miniature del X-XI secolo e dai codici laureenziani, alla riproduzione di un affresco di San Biniato al Monte, disegnato dal Benigni e inciso da Carlo Lasinio, fino a giungere alla traduzione in acquaforte di artisti moderni come Vincenzo Meucci, Giuseppe Grisoni, riprodotti in disegno dal Bozzolini e incisi da Eredi e Cecchi. Facendo una breve incursione nella modalità di navigazione dell'archivio, se usando la maschera di ricerca seleziono la raccolta e indico che sia soddisfatta la parola collezione, ottengo come risultato 31 tavole da collezioni private, per la dimostrazione appunto della caratteristica di questa particolare raccolta. Ecco quindi incisioni da opere di famiglie fiorentini, Ricci, Rucellai, Galli, Corsi, Tolomei, Rinucci, Orlandini, Santi Pacini, la Senese Sergardia e la Retina Guadagni, per ricordarne solo alcune. Una terza tipologia di repertorio e di utilizzo, quindi della stampa di traduzione, è l'Atlante settoriale, cioè quel microcosmo di elementi iconografici che superando la traduzione dal mezzo pittorico si estende ad ogni altro tipo di opera d'arte, scultura, architettura, arredo sacro e profano. Lo chiarisce immediatamente la voce oggetto che ha un elenco strutturato con le diverse tipologie riscontrabili all'interno del sito. Il progetto ha oggi in questa tipologia due esemplari eccellenti. Il primo è quello di Leopoldo Cicognara, la storia della scultura, edito da Giuseppe Picotti a Venezia fra il 1813 e il 1818, che per le sue 181 tavole aveva utilizzato quasi esclusivamente disegnatori incisori veneti. Questi artefici riprodussero con la tecnica dell'acquaforte a tratto, spesso a morsura unica, le opere scultorie di architettura, raggiungendo una nitidezza di resa incisoria che fecero di quest'opera, un modello per altri successivi repertori di questo genere. Il secondo è la storia dell'arte di Siruda Gincour, utilizzando l'edizione di Prato 1826-29 per i volumi della pittura e quella di Mantova 1841 per l'architettura e la scultura, per semplici ragioni di reperimento del materiale. Questa raccolta, più di altre, ha fornito il materiale più complesso per la nostra analisi e classificazione, soprattutto per la ricchezza delle tavole con soggetto multiplo. Per la soluzione ha prevalso la tipologia delle schede, quelle che noi chiamiamo schede madre e figlia, vale a dire esiste una scheda che riporta i dati generali della tavola, ma esistono anche, che appunto chiamiamo madre, esistono anche le schede singole delle opere riprodotte nella tavola sinottica. Il collegamento è mantenuto dalle immagini in basso e, andando su un dettaglio della tavola sinottica, si mantiene allo stesso modo il collegamento poi con la tavola madre. La storia della pittura italiana, esposta con i monumenti di Giovanni Rossini, pubblicata a Pisa da Niccolò Capurro tra il 1839 e il 1847, invece affidata ai fratelli Nistri per parte dei supplementi datati 1855. Rappresenta un tipo di repertorio scelto che non solo per la fortuna editoriale che ebbe per tutto l'Ottocento, avendo radunato un'esemplificazione che guardò molto anche alle collezioni pubbliche europee, ma soprattutto per la quantità di incisori che vi operarono, i massimi esponenti che in quegli anni lavoravano sulla stampa di traduzione. Fra tutti il grande corpus di Giovanni Paolo Lasinio e di Ferdinando, mentre solo un'acqua forte porta la firma di Carlo, che incise Dante e i suoi mondi dall'invenzione dell'Orcagna. L'Atlante iconografico, composto da 248 tavole, si integra con otto volumi di testo distinti in quattro epoche. L'esemplare fotografato per il progetto è quello conservato presso la biblioteca universitaria di Pisa. Testimonianza dell'officina che si era venuta a creare intorno al repertorio di Rosini l'abbiamo a pochi anni di distanza dalla sua prima edizione, nel 1851, quando entravano nella collezione degli uffizi i disegni preparatori dell'opera. Sono tre volumi, 180 fogli di grandi dimensioni, 200 più piccoli. Rosini prese tempo prima di inviarli a Firenze perché, come scrisse al direttore della galleria Bourbon d'Almonte, essendo stati in mano degli incisori che sempre li strapazzano, hanno bisogno di essere riguardati e disposti. Grazie a questa opportunità la collezione fiorentina si arricchì di una buona rosa di nomi, di artisti che altrimenti non sarebbero molto probabilmente entrati a far parte di quel circuito che legava il mercato e la politica delle acquisizioni, come ad esempio i disegni dei calcografi Filippo e Giuseppe Calendi o i fogli preparatori di Giuseppe Romolo Camera, Cesare Ferreri, Luigi Belletti, Tonmaso Minardi, Bartolomeo Bartoccini ed eccezionalmente per la nostra cronaca anche del conservatore del gabinetto di segni e stampe degli Uffizi, Carlo Pini. L'ultima raccolta proposta è quella di Pompeo Litta sulle famiglie celebre pubblicata a Milano dall'editore Giusti tra il 1819 e il 1883. È un caso tutto a sé. Vi si riassumano varie tipologie di modelli iconografici, da originali sia pittorici che scultorei, ma soprattutto ritorna anche l'elemento monumentale, architettonico o decorativo, la medaglia, l'emblema, la raldica, il tutto con una comune funzione, quella celebrativa. L'impostazione della pagina illustrata è molto interessante. Litta sceglie impaginazioni ardite, allontanandosi dalle convenzionali tavole sinottiche che i tanti elementi affidati al foglio potevano suggerire. Come si vede in questa selezione dedicata alla famiglia Strozzi, prevale la ritrattistica, il monumento funebre, l'effigie sulla medaglia, ma anche eventi della biografia del personaggio e della casata che inquadrano e storicizzano la stampa. La qualità delle incisioni è elevata. Spesso una stessa tavola è frutto di più morsure e metodi grafici. Acquaforte bulino, acquaforte acquatinta, ma anche vernice molle, complessità e specificità che comportava l'abbinamento anche di due incisori, Francesco Citterio e Giuseppe Romolo Camera, il Camera con Ferdinando Cassina, o Bramati o il Bassanese Gaetano Bonati, sui disegni preparatori di Alessandro Chiari, anch'esso esperto incisore per la tecnica del puro contorno. Di sapore scenografico queste pagine, come quella che vedete, accompagnano l'osservatore dentro l'immagine, facendo cogliere l'importanza di ogni dettaglio, di ogni particolare, l'unione disegno e colore, una soluzione di traduzione efficace, molto diversa dal processo evocativo rispetto agli altri casi esaminati, ma proprio per questo utile a integrare una banca dati che fosse in grado di esemplificare l'oggetto della nostra ricerca, testimoniando le varie modalità. Al di là dell'indagine svolta seguendo il filo delle singole raccolte, che per molti versi rispecchia lo scorrere delle versioni originali dei nostri repertori, le potenzialità più interessanti del database sono date dalla possibilità, da una parte di intrecciare i filtri della maschera di ricerca e dall'altra invece di avvalersi di indici che in qualche modo svolgono una primaria funzione di selezione trasversale per autori, soggetti e luoghi. È così possibile verificare immediatamente, usando gli indici, le presenze di opere e artisti nei diversi repertori, come ad esempio di Andrea del Sarto, la cui Pietà di Luco è riprodotta in tre raccolte differenti con rese in paginazione diverse. In alcuni casi confrontare le soluzioni incisorie per la traduzione di una stessa opera, come nel caso della Notte di Correggio, evidenzia il netto passaggio dalla riproduzione dell'effetto pittorico all'esasperata sintesi del linearismo. Il progetto presentato qui nelle sue linee essenziali continuerà a svilupparsi compatibilmente ai problemi di cui si è già parlato legati al copyright delle immagini e che spesso hanno ostacolato il nostro lavoro. Si pensa ai volumi di Virgilio Davio Caldeggiati, fortemente anche da Massimo Ferretti, come importante nodo critico della fortuna della scultura del Rinascimento in pieno 800, progetto fino ad oggi rinviato proprio per le difficoltà di reperire i volumi senza pagare i diritti di produzione. Comunque è in calendario l'analisi di almeno un repertorio del collezionismo sabaudo, non trascurando esemplificazioni romane che portano al Museo Capitolino, alle loge vaticane, nelle diverse redazioni che possono spiegare anche didatticamente la fortuna delle moltre imprese editoriali. Anche volendo rimanere ancora in campo toscano, molte cose sarebbero ancora ad affrontarsi, dalla serie dei ritratti degli eccellenti pittori dipinti di propria mano di Francesco Mocche, alle tavole di Lasinio per il Camposanto di Pisa. Allora abbiamo allargato alla grande il range cronologico del discorso, a quel che vedo. Quello che volevo chiederle, perché non mi è chiaro ma può darsi che sia una cosa che non ho puntualizzato, è il rapporto con il testo. Perché non sono solo tutti atlanti di immagini, ma anche il testo di Cicognara è importante e non ho capito, ecco, non capisco, non ho capito come collegate il testo alle immagini. Allora, la centralità del progetto sono, diciamo, raccolte e sono entrate in una seconda fase. Quindi per il momento è rimasta legata come centralità all'immagine, alla stampa di traduzione. Quello che abbiamo cercato di fare sia per i Rosini che per il Serudagincur, che avevano appunto l'importanza di un grosso testo alla base, è stata di riportare non solo nelle voci, appunto, ubicazione dichiarata, perché sono tutte informazioni che sono state prese dal testo e dalle didascalie, ma anche riportare nel campo annotazione che in molte delle schede, appunto, quasi esclusivamente di Seru e del Rosini, compaiono tutte le informazioni utili riguardanti l'opera, soprattutto informazioni bibliografiche, collezionistiche, di diverso genere. Per ora il rapporto con il testo si è fermato a questa fase. Bene, speriamo che possa proseguire. E questo è chiaramente l'esito di un percorso che rifaremo oggi pomeriggio all'indietro, perché con Monumento a Riora partiamo dagli album del Seicenteschi, che mostrano appunto l'origine di questo tipo di testi. A questo punto vorrei sapere se ci sono domande dal pubblico, anzi mi dispiace, prima di non avere rivolto questa domanda agli ascoltatori della relazione di Nesserat e ovviamente siamo in tempo a, se il professor Nesserat è d'accordo, a chiedere, a fare domande e a chiedere chiarimenti anche adesso. Prego. È interessante, cerco di ricollegarmi a quello che è stato detto sulle frequenze di riproduzione, le botteghe e il processo riproduttivo. E mi chiedo se è previsto un censimento della geografia della storia dell'incisione, perché ad esempio c'è il caso dell'incisione nel Cinquecento nel contesto senese, che è un caso molto sfortunato per gli studi, o almeno è questa l'impressione. E ecco, vorrei chiedere se a fronte, mi sembra che lo spirito dell'archivio digitale presentato sia proprio una grande aderenza alla realtà e all'opera. E mi chiedo se c'è l'idea di una visione organica e sistematica della geografia dell'incisione. Per il momento bisogna limitarsi, siamo partiti appunto come è evidente anche dalla scelta da un ambito toscano, abbiamo trovato alcune linee di tangenza e si spera appunto di poter andare avanti scegliendo nuovi repertori e ampliare il campo. Ci sono altre curiosità, altre domande? Prego Carlo, il professor Gasparri. Visto che è un'ottima questione anche sulla relazione di Arnold Nesser, approfitto per riproporre una questione di cui abbiamo già parlato tantissime volte e che coinvolge anche altre banche dati, quella dei colleghi francesi o quelli del monumento a Riora che hanno come base un materiale scultorio e includono una ricerca sulla vicenda di questo pezzo. Allora mi pare che il census quando muoveva i suoi primi passi, anche io potrei andare all'indietro, fondamentalmente camminava su due gambe, il monumento antico e la documentazione grafica relativa e poi naturalmente all'atere c'era il testo, il documento archivistico, generalmente un documento pubblicato. Allora il problema sempre che io mi ponevo è quale consistenza deve avere questa terza gamba del census o di un progetto di questo tipo, perché tutti quanti sappiamo che non ci si può fermare soltanto a quei pochi documenti che sono pubblicati da Fiorelli cent'anni fa o qualche cosa che viene fuori casualmente, ma basta fare una ricerca su un nucleo particolare di antichità per scoprire quale massa di cose c'è inedita. Allora naturalmente non penso che, come sappiamo, qualunque progetto avrei dei limiti, se realistico, e non può rispondere a tutte le domande, questo lo sappiamo molto bene, però vive anche un progetto dei link con progetti finitimi e qui chiederei un aggiornamento, cioè qual è la possibilità e la situazione attuale di collegamento di questi progetti con progetti che si propongano invece sistematiche indagine ed archivio e la rivelazione di fonti, documenti e notizie del tutto per ora sconosciute, che mi sembra importante. Non so se ho ben capito la domanda perché i documenti archivistici sono equivalenti ad un disegno. se c'è nel census, ecco, e non facciamo, non è una terza categoria, ma è parte della seconda categoria dei documenti post-antichi. ma forse lei ha in mente più testi digitalizzati, sfogliando anche i documenti completi, non so bene. voglio dire che si deve lavorare per implementare la base dei dati relativi alla storia del monumento antico sia nelle sue vicende collezionistiche, che non so, tutto il patrimonio di documenti che riguardano restauro, integrazioni, interventi, eccetera, eccetera. E questo è un campo che non ha quasi confine naturalmente una ricerca di questo genere. C'è un legame funzionale, è previsto un legame funzionale del census con filoni di ricerca di questo tipo o no? No, ma credo che quello che cercava di dire Berto Rubach è proprio giusto. Per quanto riguarda il 400 e il 500, il census ha sempre, e per questo si chiamava documento e non disegno o documento grafico, ma si chiamava solo documento, ha sempre compreso sia la fonte scritta sia la fonte visiva. E questo, già nei primi modelli della banca date, era una cosa che era compreso nella scheda. Per cui fu sempre considerato, abbiamo inserito, come accadeva anche per i disegni per le stampe, quello che era pubblicato, quello che era più facilmente accessibile, però abbiamo anche compreso tutto quello che abbiamo trovato. Quell'episodio al quale si riferiva Salvatore Setti stamattina, quella scenata che faceva Gombrich, era basato proprio su un documento inedito che documentava il trasporto dell'Apollo Belvedere da Palazzo Colonna al Vaticano e abbiamo dimostrato che questo era una cosa che si poteva considerare nella banca date. Per cui i documenti scritti, come quelli visivi, sono sempre stati trattati nella banca date. C'è un punto, e questo è proprio quello dove hai lavorato te, nei inventari posteriori al 500, che sono importanti per l'aspetto odierno, per esempio delle statue, restauri, cavaceppi e così via, che non possiamo andare a inserire nella nostra banca dati, vengono considerati quando una statua cambia, quando ha un altro restauro, l'esempio della Venere Belvedere o quello che sarà, viene considerato, ma questi sono dei compiti che naturalmente in un momento che si allarga la banca dati, il lavoro che fanno a Stenda per Winckelmann, devono considerare loro e la struttura della banca dati, c'è le caselle dove possono essere considerato e anche questo è uno sviluppo, grazie a quello che hanno fatto Birte e Timo, per quanto riguarda i testi completi. Anche lì, almeno con alcuni documenti, abbiamo l'esempio che anche un testo intero può essere inserito o almeno riferenziato e questi sono dei progetti che adesso ci sono e credo che qui anche il LIMP stamattina ha dimostrato come si fanno i riferimenti tra le varie banche dati.